Musica Dai collegi dei geometri delle province di Perugia e Terni l'appello al governo perché proroghi ad oltre il 2022 la scadenza per il super bonus, molte richieste ma difficoltà dicono a progettare causa Covid. Il presidente di ConfCommercio Umbria Mencaroni chiede l'annullamento della Tari per le attività chiuse dai dati tariffe invariate tra il 2019 e il 2020 malgrado la pandemia. Oltre 5 milioni di investimento pubblico che ha attivato 12 milioni di investimenti privati sono i dati ufficiali relativi al progetto di valorizzazione della filiera del nocciolo in Umbria. Mozione a Gubbio della Lega che chiede l'istituzione di uno sportello legale e gratuito. Baldinelli è un primo riferimento per chi si trova in difficoltà. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il Tg Economia. Dunque l'apertura dedicata al super bonus, quello che permette ristrutturazioni con delle agevolazioni fiscali importanti. Ma arriva dai collegi dei geometri sia della provincia di Perugia che di Terni l'appello al governo perché vengano prorogati i termini di scadenza oltre il 2022. La pandemia infatti con la chiusura dei molti uffici pubblici l'impossibilità di poter accedere agli archivi di fatto sta rallentando le pratiche. Dunque sarà impossibile rispettare le scadenze. Sentiamo. Corsa contro il tempo per gli studi tecnici d'Italia che si trovano a soddisfare le richieste dei clienti aderenti al super bonus 110, ovvero l'agevolazione prevista dal decreto rilancio che eleva al 110%, la liquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2022 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. I geometri umbri chiedono di prorogare il decreto per non vanificarlo. In Umbria infatti sono state già avanzate centinaia di richieste per accedere al super bonus. Migliaia sono quelle attualmente in elaborazione. Circa il 90% degli edifici esistenti ha le caratteristiche per usufruire delle detrazioni fiscali previste. Poter inoltrare le pratiche per tutti entro il 2022 sembra impresa impossibile. Un appello a che si faccia pressione nei confronti del legislatore che comprenda che questo provvedimento che è interessantissimo e che veramente può rilanciare l'economia nazionale e in modo particolare l'economia della nostra regione non ha i tempi giusti per raggiungere questo obiettivo. Le procedure sono complicate. Abbiamo una pandemia che obbliga molti dei dipendenti degli enti pubblici a rimanere lontani dal posto di lavoro per cui lavorando da casa è difficile gestire gli archivi che per la gran parte sono in cartaceo, non sono stati digitalizzati. Abbiamo una carenza molto accentuata delle imprese edili sul nostro territorio che negli ultimi dieci anni si sono viste ridurre come numero e anche come mano d'opera che lavora con loro. Tonzani insieme al collega della provincia di Terni Alberto Diomedi ha sottolineato anche un altro aspetto cruciale ovvero l'interpretazione delle norme regionali che variano non solo da comune a comune ma addirittura da ufficio a ufficio. La conseguenza è che i tempi per avere la documentazione tecnica necessaria o per redigere le pratiche si allungano a dismisura. Per cercare di facilitare e accelerare le operazioni i geometri umbri stanno avanzando alla proposta di un tavolo di confronto con l'Agenzia delle Entrate in cui coinvolgere l'intera rete delle professioni tecniche dell'Umbria, gli ordini dei commercialisti e dei notai. Tramite questo tavolo si vuole raccogliere tutte le varie casistiche, dare risposte univoche e pubblicarle come nelle FAQ. Resta però indispensabile la proroga dei termini oltre il dicembre 2022. Il legislatore deve capire che questi tempi deve cominciare a darceli. Aver fatto una proroga di solo un anno ci fa pensare che il legislatore sia staccato completamente da quella che è la realtà del nostro territorio, ma non il territorio umbro o perugino, territorio nazionale. Progetti su misura per il territorio, un ruolo attivo della regione anche nel sostegno alle start-up. La CNA dell'Umbria ha presentato alla presidente della regione, Tesei, 16 idee progettuali sul Recovery Plan, stilate in collaborazione con Confartigianato. Crediamo, ha detto Roberto Giannangeli, il direttore regionale di CNA, che sia questa la strada maestra per non sprecare l'occasione che ci viene offerta da questa immissione straordinaria di risorse economiche nel nostro sistema economico. Le idee inviate alla regione da CNA riguardano le infrastrutture economiche, l'innovazione del sistema imprenditoriale e le riforme. Insieme all'inserimento della orte falconara e al potenziamento dell'alta velocità, CNA ritiene fondamentale prevedere il raddoppio della tratta ferroviaria Foligno-Terontola, l'unica che, dice, garantirebbe i fondamentali collegamenti giornalieri con il Nord Italia. Poi c'è il tema della rigenerazione di tutto il patrimonio immobiliare sia pubblico che privato, in particolare delle aree dismesse all'interno dei centri storici, ma anche le aree capannoni industriali e le strutture alberghiere. Inoltre, tra gli spunti, la riqualificazione del polo di Umbria Fiere e quindi la creazione di un progetto a sostegno delle start-up innovative. Intanto il presidente di Confcommercio Umbria, invece, Giorgio Mencaroni, chiede un azzeramento della Tari per le attività. Il 2019 e il 2020, se messi a confronto in termini di Tari, dimostrano, dice Mencaroni, come nel 2020 la Tari sia rimasta invariata rispetto al 2019, malgrado siano diminuiti sia il volume di rifiuti prodotti, sia ovviamente gli introiti delle imprese. Sentiamo. La tassa rifiuti Tari continua a rappresentare per le imprese del nostro territorio un peso insostenibile, spesso ingiustificato se si considerano le iniquità che lo caratterizzano. Lo denuncia Confcommercio Umbria con l'analisi dei dati raccolti dal portale Confcommercio www.osservatorio.tasselocali.it, che conferma il peso eccessivo della tassa sui rifiuti pagata da cittadini ed imprese, nonostante l'emergenza Covid abbia obbligato molte attività a chiudere e nonostante si sia registrata nel 2020 una contrazione del PIL di quasi 9 punti percentuale, con conseguente riduzione di consumi e rifiuti. Nell'andamento regionale per capoluoghi, l'Umbria conferma all'andamento nazionale la differenza percentuale tra Tari pro capite 2020 e Tari pro capite 2019, sia Perugia che a Ternia infatti pari a zero. Nonostante la chiusura delle attività e il calo dei rifiuti che a livello nazionale del 15% rispetto all'anno precedente, la montare della Tari non è sostanzialmente cambiata. Se confrontiamo i costi sopportati dalle imprese Umbria con quelli di altre regioni, afferma il presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni, vediamo non solo che il principio è stato del tutto disatteso, ma che si sta perpetrando una palese ingiustizia soprattutto per alcuni settori costretti alla chiusura per lunghi periodi e quelli legati al turismo che non c'è. In Umbria i negozi di abbigliamento, ad esempio, sono quelli che pagano di più in Italia con una tariffa di 9,72 euro a metro quadrato, seguiti da Liguria e Campania. Stesso record per gli alberghi senza ristorante che pagano la tassa sui rifiuti più alta di tutti gli esercizi dello stesso tipo in Italia, mentre gli alberghi con ristorante sono secondi dopo la Campania. Primato della tariffa più alta in Italia anche per gli studi professionali, gli autosaloni e perfino i banchi di mercato dei beni durevoli. Questo drammatico elenco, aggiunge il presidente Mencaroni, potrebbe continuare per molte altre categorie. Conclusione, si è fatto poco per le imprese chiuse per Covid e nulla rispetto a quelle attività che sono rimaste aperte, ma che a seguito degli orari di attività ristretti, dei contingentamenti, della minor propensione dei cittadini a consumare, hanno registrato cali di fatturato significativi. I dati raccolti, secondo Mencaroni, dovranno essere alla base di un rinnovato confronto costruttivo con gli amministratori locali e con l'Anci. Servono infatti interventi strutturali perché venga recepito il nuovo metodo tariffario determinato dalla Rera, vincolando la Tari al rispetto del principio europeo chi inquina paga. Ma servono anche misure emergenziali, visto il perdurare della diffusione epidemiologica del Covid-19. Chiediamo allora, dice Mencaroni, che siano esentate dal pagamento della tasta tutte quelle imprese che anche nel 2021 saranno costrette a chiudere o a ridurre il proprio orario. L'agricoltura Arnaldo Caprai, società agricola di Montefalco, è tra le nove aziende pioniere nella innovazione agricola italiana. La Caprai ha ricevuto infatti il premio nazionale per l'innovazione in agricoltura istituito da Confagricoltura. Nato due anni fa, il premio valorizza quelle imprese del settore primario che si sono distinte in termini di tecnologia applicata all'agricoltura. Il riconoscimento all'Arnaldo Caprai è stato annunciato giovedì scorso durante la cerimonia in diretta web da Palazzo della Valle a Roma a cui hanno partecipato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Gianzanti, il ministro delle politiche agricole Patuanelli, il professor Michele Pisante dell'Università di Teramo che è anche il presidente della giuria selezionatrice. L'azienda Caprai, che è leader nella produzione del sagrantino di Montefalco, è pioniera anche dell'agricoltura 4.0. Da oltre 20 anni è all'avanguardia in fatto di innovazione e sostenibilità ambientale. L'ultima innovazione riguarda l'implementazione di tre sistemi differenti di contrasto ai danni biotici e abiotici del vigneto e di una piattaforma digitale di raccolta dati ed elaborazione delle informazioni. Restiamo in tema di agricoltura ma parliamo di nocciolo. Oltre 5 milioni di investimento pubblico e 12 di investimento privato. Questo ha attivato il bando per la filiera del nocciolo i cui dati sono stati presentati nell'ultimo incontro presso l'assessorato regionale all'agricoltura. Vediamo. 17 milioni 700 mila euro di investimenti per il nocciolo di cui 5 milioni messi sul campo dalla regione, 12 milioni dai privati, 170 aziende agricole coinvolte e 1300 ettari di nuovi impianti. Sono i numeri del nocciolo in Umbria, una delle quattro produzioni agricole, le altre sono cereali, latte e olio, di cui l'Umbria ha stimolato la crescita di filiera attraverso quattro bandi dal valore complessivo di finanziamenti pubblici di 17 milioni e mezzo di euro. Sono stati resi noti questi numeri nel corso della presentazione presso l'assessorato regionale all'agricoltura di un bademecum sulla coltivazione del nocciolo realizzato da Moreno Moraldi, agrotecnico specializzato in culture forestali. Alla presentazione coordinata dall'assessore Roberto Morroni e che si è svolta in diretta sulla pagina Facebook di Umbria Agricoltura, è intervenuto il responsabile della sezione Interventi per lo sviluppo delle filiere e delle imprese agroalimentari ed acroindustriali della regione Umbria, Paolo Guelfi, che ha fatto il punto della situazione sulla coltivazione del nocciolo, ricordando che nel 2022, al termine del progetto di promozione della filiera, l'Umbria sarà la quinta regione italiana produttrice di nocciole, dopo Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia. Per i coltivatori una grande opportunità, considerando che la loro produzione, che entrerà a regime tra cinque anni, ha già acquirenti certi, grazie a contratti siglati a livello nazionale con due colossi del dolciario. Quanto al volume di Moraldi, il nocciolo, impianto e gestione delle coltivazioni da frutto, si tratta, ha detto l'autore, di un vademecum a disposizione degli agricoltori, che parte dall'aspetto vivaistico, passando alle tecniche e consigli di realizzazione di un noccioleto, per concludere con i rischi laddove non si valuti attentamente clima e terreno d'impianto. Il nocciolo sarà a breve disponibile online sul portale www.umbriaagricoltura.it. Lo stesso format verrà impiegato per successive pubblicazioni dedicate alle colture di maggior interesse per l'agricoltura Umbra. E ancora dall'agricoltura in tema di sfide, è in programma lunedì 15 marzo, a partire dalle 15, l'appuntamento dal titolo sfide ed opportunità per le imprese olivicole nell'ambito del recovery plan. Il secondo degli incontri formativi di approfondimento in occasione della 29esima edizione del concorso nazionale Ercole Olivario. L'incontro del 15 marzo si terrà su piattaforma Zoom, sulla piattaforma dell'Ercole Olivario, organizzato da Una Prol, il Consorzio Olivicolo Italiano. Vedrà tra gli altri partecipare Nicola Di Noia, direttore generale di Una Prol, che è il Consorzio Olivicolo Italiano, insieme ovviamente ad altri esponenti come Alessandro Apolito, responsabile dell'ufficio Economia Circolare di Confederazione Nazionale Col Diretti. Ed ora invece parliamo di una proposta che arriva da Gubbio e arriva dalla Lega, l'istituzione di uno sportello legale gratuito, da usare in particolare a beneficio di cittadini che non riescono in questo periodo di particolari difficoltà economiche a potersi garantire in tanti vari ambiti, sia familiare che lavorativo, un supporto legale. Vediamo. Chiedono la creazione di uno sportello legale gratuito di prima consulenza per i cittadini del Comune di Gubbio e consiglieri del Gruppo Lega, Angelo Baldinelli, Michele Carini e Stefano Pascolini, che hanno presentato una mozione per impegnare Sindaco e Giunta ad avviare un iter di realizzazione di questo servizio attraverso un accordo da sottoscrivere con l'Ordine degli Avvocati della provincia di Perugia. I cittadini hanno diverse problematiche che riguardano il campo del diritto della famiglia, il diritto del tributario, commerciale, amministrativo. Quindi in questo ambito di difficoltà socio-economica spesso evitano anche di affrontare il tema perché pensano che ovviamente devono pagare un legale anche solo per avere una prima consulenza. Allora l'idea è quella di dare proprio ai cittadini questo primo incontro con esperti della materia per poter capire qual è l'iter da seguire per poter arrivare alla soluzione dei loro problemi. Quindi è un indirizzo, una consulenza, dopodiché loro faranno i loro passi per arrivare alle soluzioni che necessitano. In un periodo in cui cresce il disagio sociale ma contemporaneamente anche la solidarietà, con forme varie di sostegno dal buono spesa erogato dai comuni al volontario che trovi allo sportello della Caritas, la mozione punta anche a stimolare un'altra forma di solidarietà, chiamando esperti di diritto a mettere in campo la loro formazione, rispondendo ad un appello di comune ed ordine professionale. In questo ambito di difficoltà chiediamo appunto a esperti legali di poter dare il loro contributo sociale in questo momento difficile. Credo che sia una cosa importante che non milita anche chi svolge questa professione. È davvero tutto, grazie per averci seguito. Un buon proseguimento con i programmi di TRG.